Un saluto dal Tg della Mobilità. Partiranno alle 21 di questa sera i lavori in via Boccea all'incrocio con via Mattia Battistini. Saranno deviate su percorsi alternativi le linee 146 e 546. I bus percorreranno in entrambe le direzioni via Ennio Bonifazi e largo Gregorio XIII. E in centro per una voragine è chiuso al transito piazza Pio XI da via Gregorio VII a via Domenico Barone. Sono deviate le linee 247 e 791. Sempre da oggi saranno eseguiti interventi di manutenzione ai binari della stazione Casilina. Per consentire l'operatività del cartiere la circolazione ferroviaria subirà modifiche o cancellazioni nelle notti sino al 31 ottobre. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.